Un po' spento le luci qui a Mapello ma ce n'è a sufficienza per vedere il volto, direi, soddisfatto del nostro Presidente Graziani. Pienamente soddisfatto. Pienamente soddisfatto, dai capo. Bella partita, bella squadra, bella alba. Veramente contento di una squadra che di partita in partita denota sempre di miglioramento. Stasera abbiamo veramente giocato bene, di squadra, il primo set è stato anche molto combattuto, abbiamo abbattuto 4-5 volte, mi pare per il set, perché grazie a Dio siamo riusciti a portarlo a casa e bancarci. Il secondo e il terzo sono stati più agevoli, però abbiamo giocato veramente bene, un elogio veramente a tutte, uno spirito di sacrificio che non venivo da tanto tempo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti e a tutti. Ecco, il lavoro che si sta portando avanti, la strada, il gioco, mi pare sia quello, no? Sperato, auspicato, Presidente? Sì, auspicato, diciamo, sedicessi. Pensavo di avere... 13 punti dopo 6 giornate. 13 punti dopo 6 partite, direi una bugia. Esatto, qui con la sincerità. Sì, sì, ovviamente. Adesso ci aspetta il sabato prossimo, il mese, anzi faccio un invito. Abbiamo bisogno di sostenere perché giocheremo con Don Corioni, questa sera ha battuto la capolista, ha battuto il settimo 3-0, è un punto davanti a noi, per cui sicuramente sarà una bella partita. Quindi venite a vederci, venite a vederci, riempiamo il palazzetto che sicuramente si vedrà una bella partita. Credo che sabato, come hai detto tu giustamente, Presidente, sarà una gran bella pallavolo tra due ottime squadre. Penso proprio di sì, spero proprio di sì. Bene, allora si può tornare a casa soddisfatti da Brembo con il sorriso del nostro Presidente. Grazie Presidente, buon lavoro. Ciao, ciao.